Cuochi di contrada 2018 ritorna la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Cuochi di contrada è un'allegra competizione dove gli abitanti di ogni contrada di segusino provetti cuochi per un giorno si sfideranno nella preparazione di una ricetta tradizionale o innovativa. Vincerà la contrada che più saprà distinguersi per originalità, particolarità, gusto e creatività del piatto proposto. Vota chi vuoi far arrivare in finale guardando i video del piatto di ogni contrada su www.valdotv.it o www.prolocosegusino.it o alle pagine facebook valdotv o proloco segusino oppure sul canale youtube valdotv. La finale tra le borgate che avranno ricevuto più voti si svolgerà venerdì 26 ottobre alle ore 20 presso la 114esima fiera franca del rosario di segusino in una serata show cooking dove i piatti delle contrade semifinaliste verranno preparati in diretta davanti al pubblico, degustati e poi votati dai partecipanti all'originale cena. Conduce la serata direttamente da Telebelluno Luisa Venturin. Per partecipare alla particolare cena e far parte della giuria degustatrice della finale basta iscriversi con un messaggio whatsapp, un sms oppure chiamando il numero in sovraimpressione 340 62 85 209 entro il 24 ottobre 2018. Cuochi di contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti.